Al derby del Blasone tra Foligno e Ternana presenti il presidente della Lega Pro Macalli e il direttore generale Ghirelli per dare il bentornato a Capitan Gregori. Oggi Falchetti in campo con una maglia in suo onore e casacche che andranno all'asta a scopo benefico attraverso l'associazione Onlus Live. Prima dell'incontro conferenza stampa dei vertici di Lega e consegna da parte delle società delle rispettive maglie oltre che un omaggio del sindaco di Foligno per Gregori e per Macalli e Ghirelli. Macalli ha sottolineato l'importanza di testimonianze come quella di Gregori che ha sconfitto un male pericoloso. Il calcio non è niente in confronto a quello che ti può capitare nella vita. Oggi ci sei, domani non ci sei, non sei tu che decidi. Quello che ha avuto quel ragazzo lì e che hanno avuto tante persone, chi è andata bene e chi è andata male, a lui gli è andata molto bene. La forza di volontà, credo che aiuti anche il mondo in cui vivi, la determinazione. E quindi essere qui a festeggiare un evento del genere prescinde da quello che è il risultato o quello che è la tua attività sportiva che svolgi tutti i giorni. Il presidente ha anche risposto sulla questione della riforma dei campionati, invitando chi può a tener duro. Se tutti si avranno a posto, noi scriviamo 90 squadre, ma questo non avverrà. Quindi dobbiamo pensare che l'anno 21 sarà un anno di svolta, ammesso che la Federa Calcio il 3 di marzo vari dalle norme di un certo tipo. Parlavo prima del presidente del Foligno, tutti hanno le loro difficoltà. Ho detto tenete duro perché chi terrà duro adesso si troverà con dei campionati leggermente diversi. Chi rimarrà avrà una vita dopo più semplice, più tranquilla, anche sotto il profilo finanziario. Però le società che non ci sono oggi e che per demerito di alcuni dirigenti non ci dovranno più essere giusto che vengano anche tolte da questi campionati. In chiusura una domanda sulla splendida stagione del Gubbio, a cui il presidente non ha mancato di rispondere con complimenti e l'invito a non mollare fino alla fine. Sono cose che se uno scommetteva qualcosa le avrebbero pagato non so a che percentuale. Io spero che per loro si risolva tutto bene. Ancora ha dell'incredibile quello che hanno fatto, ma il calcio è proprio questo, non è una scienza esatta. C'è l'anno che ti va tutto bene al di là dei tuoi meriti e c'è l'anno che ce la metti tutta e non ti va bene nulla. Il Gubbio sta facendo bene, ha un bel vantaggio, bisogna che lo mantenga fino alla fine perché il campionato non è finito. Ricordatevi che finché non arriva l'ultimo fischio dell'arbitro tutto è in discussione. Ma questo, come ho detto prima, è la dimostrazione che è un campionato che non ha, come qualcuno magari sostiene in maniera in malafede dei vincitori e dei vinti prima di partire. Qui non si sa chi vince. Hanno vinto squadrine che però erano ben gestite e che sul campo hanno vinto. I grandi club, quelli che spendono molto ma che non riescono a ottenere i risultati, non vincono. E questa è la bellezza di questo campionato per cui auguri al Gubbio.